...e dire al nostro contegna, al nostro contegna, amministratori, che non sono soli, perché tutti noi, chi è sindaco, tra qualche modo... ...manifestazione di solidarietà, questa sera a Rivarolo, per quanto accaduto al sindaco Alberto Rostagno e parte della sua giunta. Sì, noi siamo qua come sindaci e come amministratori per manifestare la nostra vicinanza. Questa non è una manifestazione contro qualche cosa, è una manifestazione vicino a qualcuno. Vicino alla famiglia della persona che è deceduta e che quindi si è trovata a vivere questa tragedia e vicinanza anche all'amministrazione che si trova investita di una responsabilità molto grande e di difficile controllo. Diciamo che è un problema che noi sindaci viviamo quotidianamente, quello della responsabilità oggettiva per cui ognuno di noi si è trovato, per fortuna non con conseguenze così gravi, ma insomma ci sono molte occasioni che accadono nel quotidiano in cui i sindaci sono chiamati a rispondere senza avere le reali possibilità di tenere sotto controllo tutti gli eventi per i quali sono gravati di questa responsabilità. Sì, forse i sindaci sono ritenuti troppo, hanno troppe responsabilità e non sono tutelati in alcun modo. Esatto, diciamo che la riforma del Tuel è urgente perché bisogna ridefinire il perimetro delle responsabilità dei sindaci riconoscendo loro delle responsabilità che possano effettivamente esercitare, non delle responsabilità che siano sproporzionate rispetto alle loro capacità di azione. E quindi insomma noi questo chiediamo, non in questa sede, questa qua è solo un momento in cui vogliamo dire, siccome a tutti noi può capitare, siamo tutti Alberto Rostagno, per cui insomma tutti quanti possiamo trovarci in situazioni di questo tipo e quindi vogliamo esprimere sicuramente la nostra vicinanza a lui. In un'altra sede abbiamo già iniziato un percorso per sollecitare come sindaci di Anci Piemonte la riforma del Tuel da troppo tempo attesa.